Altre tre assenze. Che branco di fighetti. No, è colpa mia. Quando siete venuti qua, sono stato duro con voi. Vi ho presi in giro. Vi ho umiliati. Qualcuno l'ho picchiato. E per questo... non chiedo scusa. Il Cobra Kai è basato sulla forza. Se non siete forti dentro, non potete esserlo all'esterno. E adesso siete tutti deboli. E lo so... perché lo ero anch'io. Io non avevo amici. Io ero il ragazzino strano. Non così strano, mi facevo le ragazze, ma... Il punto è che non ero il fichissimo sensei che sono oggi. Proprio come un cobra ho dovuto cambiare pelle... per scoprire il mio potere. E lo farete anche voi. Benvenuto al Cobra Kai. Eli, che cosa ti è successo? Beh, ho fatto qualcosa. Ma sei il ragazzino del labbro. Bel taglio. Lo vedete? Non importa se siete sfigati... o nerdo o strani. Importa soltanto che voi diventiate dei duri. Palco. In riga. La paura non esiste in questo dojo, giusto? No, sensei. Il dolore non esiste in questo dojo, giusto? No, sensei. La sconfitta non esiste in questo dojo, giusto? No, sensei. Classe! Imparerete la legge del pugno. Sì, sensei!